siamo qui per passare un pomeriggio insieme diversamente avete imparato a dire tour abbiamo detto facciamo venire in giro e vediamo se siete già avanti che ci va il vino è duro è duro è duro è duro è duro è Non mi vengo a vedere! Non mi vengo a vedere! Sandra, ho delle pietre ponche Tutto da questo! È fantastico! È fantastico! È fantastico! È fantastico! È wonderful! Qua buoni? Qua buoni?